Sa molto da sfida tra Peppone e Don Camillo, l'ultima polemica che è imperversa tra le strade di Santa Lucia e di Piave. O meglio di Sarano, la frazione, dove il parroco Don Paolo Cester sta ospitando una decina di profughi dal Sudan. Il sindaco Riccardo Shumsky, prendendo al balzo le indicazioni del Papa sulle tasse che anche la Chiesa deve pagare se fa attività alberghiera, ha chiesto conto al parroco su quello che ha definito l'albergo Sarano. Se ospita deve pagare l'Imu, la posizione di Peppone e di Santa Lucia. Sono profughi, come lo siamo stati noi, e questa non è un'attività economica, la risposta del Don Camillo del Piave. Solo che rispetto ai tempi di Guareschi, oggi la battaglia si consuma sui social network, con risultati a volte ben al di là della normale dialettica, che comunque ha fotografato un paese spaccato. Diversa la situazione davanti alla telecamera, dove il più morbido la vede così. Trattandosi dei numeri, si può dire sì e no e basta. Bisogna fare i conti? Quindi è troppo presto per decidere? Sì, bisogna sentire quanto che riceve. Per gli altri la posizione è una sola. Sì, sarei giusto come che pagano i miei, pagano i miei altri, per cui dovrebbero pagare l'Imu, insomma. È giusto, insomma. Perché riscuota dei soldi? Certo, certo, perché per niente non li ospita di sicuro. Se noi paghiamo, in teoria tutti facciamo parte dell'Italia, quindi io o meno dovrebbe pagare. La ragione è il Ginego. Quindi, visto che prende dei soldi, deve pagare. E' uno scandalo con tutti questi profughi che dovevano mantenere, perché non si mantiene più neanche in Italia. Sì, sì, via, via. Quindi tutti la chiesa dovrebbe pagare? Sì, tutti. Indipendentemente? Sì. E poi c'è chi va addirittura al di là dei profughi. Beh, certo che l'Imu è giusto pagarla, a prescindere dai profughi. Quindi lei direbbe tutti, comunque, anche la chiesa dovrebbe pagare? Ma certo. No, no, altro da dire. Direi che è chiaro che è così. Cioè, per me non ci sono dubbi. Cioè, che i beni siano della chiesa o di chi altro si paga. O non paga nessuno. Cioè, che i beni siano della chiesa o di chi altro.